Di questo si può dire tutto, tanto che siamo stati vittimi in una prepotenza, di una imposizione e un sistema terzo corpio e progressivo di cui non tenevano loro abbinari. E si poteva fare a meno di lasciare questo ruolo gemma ai poteri forti? No! Perché i poteri forti alla loro volta, mi ha attivato la processione attraverso la loro stampa e la loro informazione di questa falsa rivoluzione. E la democrazia è avvenuta. Un golpe posto morto. Si è riuscito in modo sofisticato, ma in modo non meno violento, ad usare la giustizia per rinare il terzo corizio. Non sono stato difeso da una parte di coloro che avevano il dovere di difendermi. Per parte mia naturalmente congelarò a difendermi nel modo in cui mi sarà consentito di farlo, cercando le vie di difesa più utili e più efficaci. E senza venire meno mai ai miei doveri, verso la mia persona, la mia famiglia e tutte le persone che stimo e rispetto, siano essi amici o ad avversari. Veniamo da Piazza Magona, sono le sette e mezzo, siamo di fronte a lottare l'acqua e tutto quello che sta succedendo, in attesa che il più l'acqua e tutto quello che sta succedendo da quella porta. Piazza Magona, 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 Piazza Magona. Piazza Magona, 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 Piazza Magona La morte è che per me la mia libertà equivale alla mia vita. E' capitato tante volte nella storia. E' capitato tante volte. Nella storia che è capitato nella storia della società politica è una storia che ha anche il suo aspetto di prudente. Un paese civile, in una democrazia avanzata, si dovrebbe avere il coraggio di dire basta con questa finta seconda repubblica. E' basta anche con l'idea epagogica e illusoria che le sorti del paese stiano solo nelle mani della cassa imprenditoriale e della finanza. Le sorti del paese stanno le mani alle mani degli industriali privati e pubblici, dei finanzieri, dei commercianti, dei professionisti, degli intellettuali, degli licenziati, degli oggetti, degli operari, e dei coltadini, degli imprenditoriali, degli artigiani stanno nelle mani delle esperienze degli anziati e della volontà di affermazione, di sacrificio e di conquista dei giovani. Il mio amico è un incontro nei modi di crescione, in modo da non subire altre belle zone, non vivere i propri paesi per non morire. E' un'azienda. Però questo non è presente, contero, tra me e solo. Tutto quello che in cui ogni volta succede sarà una scoperta di un'andare felice. Il principale di ottenere è la verità. La verità. E viene offesa, arriva tutta la vita con la voce. Io non mi sono piegato. Il problema di si avessi fatto come tanti altri è uno scopo insolato. mi sono nascosti, mi sono tappati la bocca, oppure hanno detto il contrario di quello che pensavo. O il contrario della verità, mi hanno dato tutto questo. Io parlo e continuo a parlare. e continuo a parlare. Continuiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.